Mister, vittoria a Comon, partita è terminata 3-0, soddisfatto? Sì, soddisfatto ovviamente del risultato, tutto sommato visto il periodo, visto tutte le incertezze che avevamo prima di questa partita, per i motivi che sappiamo, il fatto di aver già vinto da un po' di tempo, il fatto di aver giocato le ultime sette partite di campionato senza l'ansia di dover vincere a tutti i costi, direi che i ragazzi hanno fatto il massimo che potevano fare in questo momento della stagione, che non è un momento facile, ovviamente è partita giocata un po' sotto ritmi, classica partita di fine campionato, però quello che era importante era cercare di vincere la partita, ci siamo riusciti, c'è da dire anche onestamente che il Com aveva diverse defezioni, come qualcuno ne avevamo anche noi, però insomma per me era importante vincere, ci siamo riusciti e siamo contenti. Che cosa le è piaciuto di più? Ma no, diciamo, non è piaciuto il fatto che comunque abbiamo rischiato poco dal punto di vista difensivo, e questo è importante perché invece nelle ultime giornate di campionato avevamo preso un po' troppi gol, oggi ho rivisto un po' di soddividità, che è quella che ci vuole per finire bene questa stagione. Cosa le è piaciuto di meno? Ah, l'ho detto, forse abbiamo fatto troppi errori tecnici, semplici, di controlli di palla, di passaggi semplici e classico di quando, ripeto, magari non è la concentrazione, ma forse neanche la concentrazione, diciamo quando è un po' che non fai una partita agonisticamente valida e agonisticamente vera, diciamo, di conseguenza si rischia di essere un po' meno attenti ai particolari.